Presentata Cop Startup Molise, l'iniziativa che ha l'obiettivo di accompagnare le idee imprenditoriali innovative per il territorio, combattendo lo spopolamento e creando imprese. Un ambizioso progetto presentato in conferenza stampa all'interno dello spazio sfuso di Campobasso. L'Ora Lega Cop Molise oggi lancia questo bando, è la prima volta per noi. Finanziamo con un contributo di 7.000 euro la costituzione di tre imprese cooperative innovative, innovative non dal punto di vista tecnologico ma innovative per questo territorio. Quindi premiamo cose che non ci sono su questo territorio a vantaggio dei giovani, delle cooperative di comunità e di tutti coloro che hanno un'idea da portare avanti su questo territorio. Il Fond crede tantissimo nella crescita di start-up cooperative in giro per tutta l'Italia e quindi siamo molto contenti, visto che Cop Startup è un programma nazionale che va avanti da alcuni anni, di fare questa prima edizione di Cop Startup Molise. Questo perché per un ecosistema ampio come quello di Cop Fond, che poi è il fondo mutualistico di Lega Cop Nazionale, è fondamentale incentivare la nascita di nuove imprese cooperative. Nel caso di Cop Startup in forma di start-up cooperative, ma anche altre forme di impresa. Quindi questo per noi è strategico perché questo ecosistema di imprese deve essere alimentato continuamente.